Hola Lucia D'Ores e patiti di patè e di robe che tirano i peti come il nostro amico Peyt. Eccoci qui a colloquio con lui. Abbiamo già raccattato il tesoro nell'episodio precedente, vediamo un po' cosa ci dirà. Ci dà della ghiaia. Oh, tutto insieme. Davvero anche l'altra volta ci dava tutto qui? Eh sì. Esatto. Diciamo che qui ci hanno provato a fare paci ma non ci sono riusciti eh. Ok, perfetto. Ora, andiamo pianin pianino, che non mi ricordo se troviamo brutte sorprese qua. No, abbiamo già spazzato l'area, meno male. E dai. Sti rumori sono veramente fastidiosi. Signora Mamma Fram, avrei una cosina da dirne riguardo a un po' di cose. Vabbè. Ok. E quello è morto imbalsamato come un manichino, fra l'altro. Allora, diamo una sbirciata un secondo attimo a una cosa. Giusto appunto che Pate ci ha scartavetrato un po' della sua roba. A livello, e beh, a livello di peso di difesa è meno di quello che già abbiamo addosso. Quindi niente. Vediamo se abbiamo di meglio come difesa da veleni e robe simili. Ma penso... Sì, però sommariamente no. Ok, va bene. Andiamo avanti così per un po'. Potremmo però... Siamo ancora sotto il 50%, però tiriamo su pesantemente le difese. Oddio. Così siamo inguardabili, vero? Ma anche così. Eh, il cappello che schifa, eh. Va bene. Vediamo un po'. Boh, sì, dovremmo esserci. Allora, stavolta vediamo di non commettere lo stesso errore. Andiamo cauti e facciamoci un ucaz di manichino alla volta. Ok. Avanza, perfetto. Ok. A questo punto mi domando, ma ci sarà il secondo? O era lì solo la prima volta per scassare la wallera? Ah, fra l'altro dobbiamo ricordarci che stavolta la farfallina non è morta, eh. Eh. Non voglio sapere da dove arrivava, non lo voglio sapere, 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 non dite niente? Batta. Ok. Tu muori così. Tranquillo. Come se non fosse successo nulla. Allora, di lì abbiamo già ripulito, quindi in teoria possiamo aprire con abbastanza serenità. che metti caso che moriamo per un motivo assurdo almeno saprò chi dar la colpa sì, sto parlando con voi con ciascuno di voi no, prima scudo l'abbiamo già raccattato e adesso dobbiamo riammazzare la farfallina dobbiamo riammazzare la farfallina non c'è più la farfallina oh, quindi era unico perfetto io non sono il tipo scusa te, abbastanza sapessi sappi che un giorno avrò a ucciderti per conto di Navlan? giusto appunto te sì ammazza sono riusciti a prendere Gilligan che era brutto e farlo ancora più brutto non era da tutti eh grazie prima di scendere diamo un'occhiata mica che ci siano anche le farfalline sotto non te l'offrirò mi hai chiesto duemila anime sai cosa ho fatto per tirare assieme brutto allora ok il gesto della prostata e acquisto oggetto vediamo un po' no ni per ora poi ci costerà molto di più e lo prenderemo vabbè tanto queste cose le possiamo comprare tutte anche poi vero? è che io detesto il cappello che sto indossando e soprattutto detesto vabbè ok niente prendo questo giusto che giusto perché se muoio almeno non muoio con tutte le anime in saccoccino come dico sempre ok vediamo se da qui possiamo esatto che ci permetterà di farci un nemico e recuperare qualche animella a tal proposito avrà un senso andare lì? non so se ho troppa voglia di scoprirlo oh figo una cosa che mi sono sempre chiesto no eh sarebbe stato divertente però allora no lì direi che la strada probabilmente si interrompe vediamo se non moriamo contro mitia che riusciamo a fare una tirata unica magari potrei fare la pazzia di tentare anche di scendere di lì per curiosare un po' eh la cosa non mi ispira troppissimo però vabbè vediamo non hai altro a dirci esatto il botox l'avevo detto l'altra volta lo fanno lo fanno mi ricordo niente bello che ci lasciano credere sempre tutto la sua vecchia fiamma è fantastico ok ciao ragazzone ci vediamo alla prossima che che se ne dica a me gilligan stack simpatico un fottio allora poi un giorno andremo anche a recuperare tutta quella roba la sotto non abbiate timore che lo fa no non è un item deve essere l'arma di coso non la vedo più va bene va bene si è il tizio davanti al mulino avvelenato ok perfetto quindi ora con somma cautela tomi tomi cacchi cacchi togliamoci una curiosità no scatto una volta solo l'interruttore meno male allora tomi tomi cacchi cacchi ce la saliamo qui diamo un'occhiata veloce perché è sempre bello trovare un manichino sdraiato in cima a una scala e voi non avete idea veramente allora volevo vedere lo so che può sembrare da codardi ma siamo qui anche per fare i conigli dobbiamo vedere se da qua riesco a nooo 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 si oh nel mio piccolo sto sperando che arrivi fin qui ditemi che fantastico fantastico tenetelo presente che voi per le vostre fantastiche partite a dark souls 2 perché potrebbe essere tanta manna dal cielo oh che bello oh che bello ci siamo levati un altro personaggio veramente fastidioso dalle pigne e faremo altrettanto col suo collega anche se non credo che lui avrà abbastanza roba per avvelenarsi no vabbè ho sprecato una freccia non si fanno queste cose c'è crisi allora lui non spaccherà anfore non illudiamoci mannaggia il fantasma nooo no non fermarti lì non fermarti lì percepiscimi sono qui non mi abbandonare ehi ma vacca boia corre allora prima di tutto facciamo fuori lei che vorrei evitare bruttissime sorprese ok perfetto grazie grandioso vero e poi vediamo di attirare nella nostra trappolazza ciccio pasticcio no è diventato schizzoide non riusciamo più ad aggrarlo mai per mai no dai non ditemi così che ci rimango male io poi ma vaffan pigli per il culo ma vecchio bastardo stai fermo un secondo che ti devo colpire con una freccia come cazzo cammini mo basta va bene ci rinunzio ha un po' di geometrie mal gestite eh sto giochino lo so giochino non è una bella parola ma vabbè tant'è è vero che lì c'è la nostra amica maghetta vieni fantastico perfetto grazie mille ti apprezzo molto sai ho visto tutti i tuoi film di Jackie Chan ma tutti i tuoi di Jackie Chan proprio eh no 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 ho rischiato la morte per impudenza e fra l'altro anche per impudicizia bello perché dopo un po' non ti cagano più eh adesso lui curverà no è basso lo so per fortuna che sommaco no perché non ho sparato una di più e di nuovo ha tratto come un magnete dai muri veramente lavorante sta cosa scusa ma non volermene sei una bella strapagnona ma non ne ho per tutte eh troppo golose voi donnette allora ok ok no l'ho fatto perché poi sapete che salta fuori il vostro collega quello grosso e voi sareste debitamente una gran rotura di ammennicoli esatto questo intendevo che cacchio di rotazione del torso ha avuto ok vai mitico ci vediamo al prossimo giro mi raccomando offro io da bere allora vediamo di non so se voglio prettamente attivare il falozzo volete vedere che qua mi arriva forlon all'improvviso con un sorriso ok di lì ci andiamo poi nothing non ci credo non me la raccontate giusta non mi piacciono sti scherzi vabbè su udite voi bussa vive no non sono successe cose brutte strano molto strano ok volente non siamo arrivati praticamente in cima e questa cosa ci fa parecchio felici nel prossimo video andremo a dare un'occhiata nella stanzina di lì poi torneremo umani e vedremo quali personaggi si possono evocare per questa boss fight oltre a Thomas il giullare sempre fermo 2 ci rivela tante sorprese in questa sua nuova veste alla prossima ragazzuoli tanti cari saluti dal vostro Sibber e a me Nicolivari sapete che io mi corredo sempre di cose per salutarvi ciao a tutti